lascio perdere dietro dietro Gioley fatti uno ferito un altro arrivo fatto 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 no mi girano un altro mi girano un altro fatti due dietro i miei grazie bro nooo 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 tu sei la ultima completi la mission nooo fa chiedere da prendere vabbè 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 ragazzi scusa ragazzi ma di che? non ti preoccupare se le fatti tutti ragazzi ma che è successo? se le fatti tutti ragazzi ascolta Lucas domani si dice che fanno esplodere la mappa domani alle 7 di sera fanno esplodere la mappa con una bomba atomica domani arriva mia mulle e mio bambino quindi dici evito di giocare Gabo's problem se sei ok per gli stessi problemi che a Gab Gabo è di più però eh posso confermare allora allora dove andiamo? Lucas dai scegli Lucas ma facciamo scegliere lui no no io sicuro dai no no scegli tu ora tu vai tu prima partito è la partita di riscaldamento partita di riscaldamento riscaldamento andiamo qua vai vai superstore ah ok riscaldamento questo è riscaldamento ragazzi si se fa riscaldamento al gulag va bene io vado verso il blu dai lo vieni con me prendiamo un'arma sul tetto e proviamo a combattere ok via poi let's go let's go let's go lascio perdere dietro dietro Gio lì fatto uno è uno lì ferito un altro pusciamo lì dallo arrivo fatto 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 c'è tre coppè piano di gente sotto Dali eh Gio devo scendere per fuori guarda lì qua ce l'ho qua uno arrivo prendo l'arma qua sotto l'arazzi vai 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 non andare stare vai 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 cucciola cucciola one shot one shot one shot no ce n'era un altro eh ce n'erano due due brother eh quattro quattro ti resto nooo sul tetto un altro cavolo ne ho ammazzati quattro scaldamento voglio farlo più spesso voglio farlo più spesso cioè io non ho noccati tre non ne ho ammazzato uno dei tre che ho noccato ma pure Bacchetta ha vinto vabbè ma non avevo dubbi ok stanno arrivando ragazzi sono a police non con te ma non c'è nessuno eh no fatto 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 atterrato wallbang eiii eiii ya 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 uno che vola uno che vola ok dentro crackato crackato quello che vola ma dove sono? una bomba sono dentro? eh non lo sapevo che erano dentro sono morti dalle tante manco io uno è fuori è uscito one shot mi sento davanti a te fatto uno sali 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 mi vado da dentro io rollo davanti a te sopra uno sopra uno sopra uno non ho shield fatto uno ho avuto un problema sono due dove? sul tetto? si sono due uno è uno non so neanche che cazzo io ho fatto ho avuto un problema ho fatto un altro manca l'alto sopra bravissimo ci siamo ci siamo boys we're back we're back perdonatemi raga ma ho avuto dietro dietro sulla cassa sulla cassa dietro la cassa fatto 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 morto 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 dobbiamo trovare il modo di di restare delus sullo shop fatto uno fatti due easy volete che lo provo? ci provo? eh ma dovremmo comprare pure le piastre per voi facciamo una cosa va? mi sposto così c'ho i fumogeni tutti assieme ragazzi vai è pieno di corazze piene 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 ragazzi si si vieni ragazzi compratevi quello che vi serve con i soldi comprate guardate dove ok vai alla roccia a sinistra poi lucas vai a destra a sinistra uguale dove vuoi tu aspettiamo un secondo si è uguale io non li vedo tu li vedi? no qua ok non lo vedo non lo vedo è morto è morto è morto è morto si ok la sgao c'è uno in volo fatelo perdere ci sta facciamo attento c'è gente? sopra si distrutto vengo baro bravo fuori uno è morto morto manca l'altro team che spara da 76 76 a sinistra nella casa c'è la nostra ma chi è uscito fuori? ero soprotetto vengo dietro vengo dietro vengo dietro vengo dietro un altro bravissimo continuiamo appena le hai vieni da prendere il loot vieni da prendere il loot vieni da prendere il loot qua sotto qua d'America non pushare gamba perché vabbè 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 c'è pagherà c'è pagherà c'è pagherà c'è pagherà pure dietro lo sto passando bravi 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 buono così boys SWAT SWAT lo esplosi? perché ve l'ho detto luca luca sei una macchina ragazzi prendi si 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 ragazzi gli si chiude la vena cioè è un toro sento sopra a destra guarda sopra a destra concentrati sopra a destra da laggiù sotto campo aperto si si uno fatto colpito frescato occhio a destra brother ci manca uno one shot sei lì non lo vedo non lo vedo non riesco a trossare il fight con te dato SWAT 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 boys manca uno qui da me qui da me qui da me arriviamo ho preso fuoco chi cazzo è? una torcia come ma tutti'assieme vai 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 è un caso cattivissimo vai quel cazzo di mp7 oh cazzo ci siamo vai vai camminare indietro non possono fai ho preso l'ho preso abbiamo indietro che mi ricompito vedete van defa dio No, merda, sul team di cecchini. Giù, 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 Zelu. Sul team di cecchini. Dove? 30. Gamba, campo aperto. È tuo gamba. Gamba in campo aperto. Dov'è? Madonna, raga. Occhio, occhio. Qua davanti, dove vedi l'albero? No, c'hanno quattro, raga. Tranquillo, gamba, rimani con me. È dietro l'albero, lì dietro. È tutto un team sotto di voi, raga. Lo so, lo so, lo so, te l'ho detto. Te l'ho detto, Zelu, all'inizio. Hai nessato. Mi ha fatto due. Vado via, gamba, rimani sopra tua. Sì. No, 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 sbagliato. Gamba, non muoverti da lì. Non muoverti da lì, devi far uscire. Ho pure usare l'SMG se vuoi. Bravo, manca l'ultimo. Eccolo. Gamba! Let's go, boys! 44 kill, ragazzi. Primo game, 44. EASY! Ma sto pacchettare 13, ragazzi. Pacchettare, ragazzi, è fortissimo. Let's go! Due team. Pacchettare, un addosso, ragazzi. Sono con te, Lucas. Vai. Entra, entra, entra. È sotto. Salgo su? È andato. Andato? L'ho ferito un pelo. Bravo. Possiamo andare dritto, raga. La, 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 la. Bravo, bravo. Andiamo al verde, al verde, al verde. Go, 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 go. Oh, su due. Certo. Cavolo, sono bloccato. Eh, sono... Vado da sinistra. Vieni con me, Dalo. Vieni con me. Guarda da sinistra. Sinistra, sinistra. È andato ucciso. Mamma mia, Dello. È un francese. Cazzo, quanto cazzo. Vorrei abbracciarti. Salgo su. Oh! Che cazzo di paura! Sono sopra, sono saliti sopra. Ah, ok, ok, ci sono pure io sopra. Craccato, spaccato lo shield, one shot, sta scendendo. Morto subito. Vai, Lucas, vai, gamba! Volate, boys! Uno craccato. Uno fatto. C'è un altro, c'è un altro. Io della macchina. Preso, preso, preso. Un'altra ancora. Straccato. Non lo vedo. Non lo vedo, non so dove è sparito. Sparito. Ho sotto. E cazzo, come è finito sotto? Sotto, sotto, sotto. Fatto. Dai, dai, dai. Sbaglio le dito? Sì, 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 è morto, morto, morto. Certo, abbiamo. Vai, sono un altro. Li mangiamo, li mangiamo. Li divastiamo. Tutte le piastre perse. Ottimo. Ok, io. Oh, qua vicino, qua vicino, qua vicino. Lì, 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 al ping, io non ho più piastre, eh. Dentro casa, dentro casa da lui. Esploso. Esploso. UAB, mi fico in polo. Sono del volo. Vado dritto, vado dritto verso la conquista, si era qua vicino. Eccolo. Sì, stato, quasi gracchato. Cazzo, sono sdraiato, che cazzo sta facendo quello? Fra cazzo. Va davanti, mi ha colpito. Non ha sondato con il vetro. 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 Non ha sondato con il limite. Fatti due. Ancora? Fatto. Cazzo qua, c'è un altro. C'è un altro. Canto a me. Gamba pusha. Te lo fai, te lo fai, te lo fai, te lo fai, te lo fai l'ultimo. Uno vi spara dalla sopra. Qua, 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 terra, terra, qua. Dentro di te, dentro, dentro. No, ragazzi. Ragazzi c'è un altro, c'è un altro. Mi affaccio? Non so come fa. A destra, te lo fai, sul muretto. Dove sto sparando? Uno praticamente a terra. Meccato uno. Attento, attento. Se avessi un cecchino, che cazzo. Dai, uccisi. Bravo, andiamo a restare il packet hop, Boris. Alla nuova zona sicura. Giorgio è sotto. Fatto. Dai, mi spara dal tetto. Fatto. C'è uno sopra il tetto, non so dove. Stanno arrivando gli altri packet hop. Oh, gli spartono con un cecco a packet hop. Occhio superstore. Occhio superstore. Oh, uno qua. No, merda. Era camperato. Vieni, 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 tranquillo. Sono sopra, ragazzi, ma non vedo nessuno. Capo aperto. Vi è su una roccia, ragazzi. Lì, 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 lì. Fermo in piedi. E' fermo là, è fermo là. Craccato ancora. E' ancora là dietro. E' ucciso, ucciso. Te l'ho ferito, gamba. Te lo finisco. Dentro di te, bar. Dietro di me. Grazie, bro. No, 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 no. Madonna. Spara da dietro, sì. Eh, poi c'è tanto da prendere, non so. Vabbè, 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 raga. E' ancora fattibile. Questo qua era il cowboy che scappava da prima, ragazzi. Prima ci ha fuggiato e poi è scappato. Scusa, ragazzi. Ma di che? Non ti preoccupare. Se le fatti tutti, ragazzi. Ma che è successo? Se le fatti tutti, ragazzi. Io l'endo sul tetto di aeroporto per ora, gamba. E vi guardo. 5.000 e 5, abbiamo. Come va? Dove? Sono dietro ai tagli. Ammazzati, ammazzati, ammazzati. Tutti? Ah, dove? Un altro. Un altro, un altro team. Un altro team. Ok, aspettate. ragazzi questi qui sono altri team da me c'è gente allo shop dovete comprare compriamo live bombardamenti sono sei in fondo se sei rimano mai il grappolo di micro citato sono tutti lì raga dove aspettare a tirarlo ha fatto una cazzata in realtà non è male non ho fatto una cazzata non andò mi vado a chiudere raga uno con me ma che dal momento di brillare vieni vieni uno è noccato poi tirarlo dalla finestra del bravo lucas non li dobbiamo far passare lucas comincia ad andare verso sinistra vai 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 e luca stiamo tornando da voi qui qui occhio let's go boy let's go boys ciao